Hey dudes, I'm back in town! Posh Parvatiir ritorna finalmente sui vostri schermi con il suo vlog. Nel 2019 abbiamo visto un sacco di cose belle, un sacco di cose interessanti, ma, ahimè, sono stato non abbastanza costante. Quindi, torniamo weekly, tutte le settimane, alla domenica, l'orario dobbiamo ancora definirlo, però usciremo con il nostro vlog. Stile, passioni, bici, moto, volanti, un sacco di robe, tutte quelle che mi piacciono, e di tanti tipi diversi. Quindi faremo ancora lì di Sardegna, un altro evento moto fichissimo dall'altra parte dell'oceano, in Francia, andremo in California. Il calendario è molto fitto, ci sono tantissime cose interessanti e molto belle. Il punto è, voglio guidarvi in mezzo alle mie passioni, raccontandovi più storie, portandovi con me nei viaggi. Nel 2019 abbiamo già iniziato a fare delle cose interessanti, ma non ero abbastanza costante. Voglio veramente collegare le mie storie, portarvi con me a vedere, a toccare alcuni degli eventi più cool che la mia vita fortunata mi permette di fare. Quindi, iscrivetevi al canale, cosa molto, molto, molto importante, almeno così mi dicono, poi io non è che ne sappia tanto, e seguiteci, perché la bici chiaramente avrà una parte principale, torneremo a fare le gare per bici elettriche, e farò la EWS, che secondo me sarà il campionato più intenso e competitivo del mondo elettrico. Faremo chiaramente anche altre gare per bici elettriche, ma principalmente quello su cui veramente punto è quello lì, ci sarà il mondiale in Germania, a Albstadt, eventi moto, ve ne ho parlato, viaggi. Il crosscountrino, molto importante il crosscountrino, voglio, vorrei, voglio un po' forte, che mi scriviate in DM, in direct message, su Instagram o su YouTube o nei commenti, fate whatever you want, fate come volete, ma scrivetemi perché vorrei andare a toccare, a provare e a girare nei posti più cool e interessanti per la bici da crosscountry, perché è il mezzo che mi ha dato più soddisfazione a livello agonistico, al mezzo che mi ha fatto vincere un sacco di gare e diventare quello che sono adesso. Il 2020 è un anno importante, ci saranno le Olimpiadi, sarà un anno dove il crosscountry avrà un'importanza decisamente forte all'interno del mondo bici, ma voglio girare nei posti fichi. Scrivetemi, ditemi dove avete girato, ditemi dove abitate e se avete un posto veramente, veramente interessante, jumps, rocks, routes, whatever, voglio girare in posti interessanti per il mio crosscountino. Mi iscrivete, ne parliamo e vediamo come fare. Io vengo a girare nei posti più cool che ci sono nel panorama italiano e non solo. Quindi, what else? Nothing. Continuate a seguirci perché quest'anno avremo cose veramente super interessanti e ci vediamo sul canale YouTube every Sunday. Quell'altro cosa che diceva Steve? Cosa che diceva on any Sunday? Whatever, on any Sunday. Cheers!